Ad un anno di distanza la storia si ripeta. Quello che l'anno scorso avevamo lasciato con le zone rosse, lockdown e tutto, oggi si ripresenta alla stessa maniera. Garanzie igienico-sanitarie nessune nelle zone rosse, dove non è consentito aprire locali, ma si è nella condizione di poter entrare in tutte le case, dimenticando i problemi reali, i problemi sanitari e dimenticando anche professionalità e tutto il resto. Su questo non ci siamo, non ci siamo. Noi vogliamo al primo punto il problema sanitario, al secondo punto che le attività possano funzionare nelle regole, nel rispetto delle regole e nella sicurezza totale da parte dei dipendenti, da parte dei titolari e da parte di tutti i clienti che stanno all'interno dei nostri locali. Questo l'abbiamo fatto, abbiamo intenzione di continuare a farlo, ma metteteci nella condizione di farlo, poter aprire locali anche in zone rosse, con tutti i controlli e con tutte le cautele del caso, da mettere in sicurezza tutti.